Salve a tutti Davido Pancella siamo a Baccanale e vi faccio vedere il piatto tipico di San Gregorio Magno le patate Kunzad Le patate Kunzad sono patate riscaldate con i peperoni fritti in abbondante olio e ovviamente questo è un piatto della tradizione contadina, tradizione povera delle nostre aree accompagnato dall'ottimo vino di San Gregorio Magno quindi patate Kunzad, vi aspettiamo a San Gregorio Magno